ciao questa è storia in cameretta la nuova rubrica di video letture di nick book io sono francesca e lei è ilaria mia figlia oggi ti leggeremo una storia che ci piace molto e che consigliamo a tutti i bambini e due bambini a partire dai due anni eccola qua la storia croc croc morbicchia di lucy pen terre di mezzo editore pronta eccoci ciao che bello vederti qui come ti chiami ilaria piacere di conoscerti io mi chiamo croc croc milario qual è il tuo gioco preferito le barbie e gli unicordi il mio invece è il pallone e invece il tuo pupazzo preferito orso eccolo qua ciao orso anche il mio è un orso e si chiama solletico giri 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 senti laria qualche è il tuo libro preferito croc croc morbicchia ma davvero si proprio questo che stiamo leggendo il mio invece è lo scherzetto del coccodino già lo conosci lo conosci anche tu allora allora dimmi un po qual è il tuo cibo preferito il gelato la nutella e tutti i dolci del mondo tutto buonissimo invece lo sai qual è il mio cibo preferito no poi lo vuoi sapere si sicura si cura si vado al centro del centro il mio cibo preferito ilaria sei tu scherzavo ma io in realtà sglamocchio solo nei carote meno male meno male simpatica vero allora spero che questa storia ti sia piaciuta ora io in realtà andiamo a cercare un'altra da leggerti domani perché vi aspettiamo qui sempre in camionetta su milk book ciao presto ciao ciao